Cos'è una grow room o una grow box? E' semplicemente un ambiente dove per mezzo di centraline riusciamo a stabilire e determinare alcuni parametri di umidità e temperatura che vogliamo ottenere all'interno appunto di questa stanza con l'ausilio di estrattori, con l'ausilio di filtri a carboni attivi e ovviamente l'impianto di illuminazione. Da semimatti.it potrete trovare tutti i nostri kit completi da 60 cm fino a 2,40 m.